Buon pomeriggio dalla La situazione per pioggia segnalata a lungo tutto il percorso della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina è chiuso in entrata e uscita allo svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in direzione Orte. Nuoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!